video di forma, di forma, ma dopo il kart quanto va veloce, però vabbè, ora io devo provare a killare tutte le persone che incontro, a chi c'è pignatta, di nata, di natale, che schifo, di natale è un giocatore forte, cioè era un giocatore forte, ma dopo questo qua stava facendo più kill di me, molte, c'ho pettere du, no, a chi di killiane, ma so, non c'è, non ci posso credere, pettere du, e killiane, mbappe, asuuuuzule, buuu, 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 bulu, uussuriki, buuu, uu, usuuu liberal, usuuu , maestro, Kippembe, cerchiaa-mace, questo, questo, kadРИ vabbè ora tu corri là basta non me ne frega se no perché sotterra che che amico mister ball bad win oggi domenica finissima non pepe no pepe no pepe no pepe no pepe no pepe no pepe è tutto a me volete chi l'area c'è entrare a me volete che cos'ha all day bonus happy old oh che mi hanno dato i xp quando a me non servono no ma io ho toccato il capelli io gli ho rimosso i capelli a joy almeno io mi ricordo che si chiama così cioè non è vabbè ora speriamo di chillare questo nabbo questo nabbino virgola meno punto puntino virgola meno io ti scemo ma smella no ho voluto sempre bene ora mi metto la skin di marshmallow la prossima che mi chillano mi metto la skin di marshmallow ok mi hanno chillato ora respanero sopra e mi metto la skin di marshmallow perché è finita è finita è finita lo terzo vabbè buono vabbè ora toilet sniper one shot winter update ora killa tuttia che ci fa che io mi cambio il costume speriamo che ci sia marshmallow cioè speriamo che ci sia in game marshmallow dove sta ecco no perché freccia verde allora allora ecco marshmallow ho messo marshmallow peter edu o mio amico vabbè io me ne frego ora faccio l'ultima kill ma che me ne frega faccio l'ultima kill e devo chiudere la ripresa perché perché poi non mi entra tutto il video ecco oh ma che vuole questo qua c'è il mio amico beh non voglio